Ho fatto veramente un sacco di acquisti su Vinted e per fortuna mi è andata sempre bene ma avessi dovuto fare un reso come avrei dovuto fare ve lo spiego in questo video. Ciao a tutti sono Daniele per gli amici subri bentornati sul mio canale oggi vi spiegherò come funziona il reso su Vinted ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Innanzitutto bisogna chiarire che cos'è Vinted e che cosa fa Vinted per capire come si svolge il reso infatti questa applicazione si mette in mezzo tra privato e privato per garantire che la transazione si svolga nel migliore dei modi ma noi siamo tutti abituati ad esempio ad amazon dove il reso si può addirittura fare entro i 30 giorni anzi in questo periodo qua è stato addirittura esteso fino a fine gennaio perché perché in quel caso amazon è un'azienda chi vende su amazon alla partita iva ed è un'azienda e tratta con i privati quindi il reso si svolgerà in un determinato modo qua invece su Vinted siamo tra privato e privato quindi è una compravendita tra privati e il reso andrà inteso in una maniera diversa e adesso vediamo come partiamo da una cosa molto semplice ovvero quando si può o non si può richiedere un reso un reso come un rimborso possono essere richiesti ad esempio quando l'oggetto arriva completamente diverso dalla descrizione ha fatto il venditore ad esempio un oggetto segnalato come funzionante ma arriva non funzionante oppure un oggetto che arriva in pessime condizioni quando era descritto come nuovo mentre non si potrà richiedere un rimborso per ad esempio un oggetto che è arrivato più grande perché noi non abbiamo richiesto la taglia non abbiamo fatto caso alla taglia arriva un jeans taglia 42 il venditore aveva descritto che era un jeans taglia 42 mentre noi portiamo la 38 e quindi è stato un nostro errore oppure compriamo un gioco per xbox quando in realtà il nipotino ha la playstation 4 in questo caso si potrà comunque richiedere un reso e un rimborso ma l'applicazione non potrà forzare quest'azione sarà l'acquirente che dovrà sbrigarsela direttamente con il venditore ora passiamo un argomento molto importante ovvero chi paga le spese di reso l'acquirente che si appoggerà vinted per fare un acquisto deve essere consapevole che le spese di reso nella maggior parte dei casi saranno sempre a carico suo nonostante magari l'acquirente abbia ragione perché sono arrivate le scarpe numero 38 quando erano descritte numero 42 ecco però che in questo caso ci si può accordare con il venditore che magari riconosce il proprio errore e paga le spese di reso io consiglio di farsele pagare sempre prima però mi raccomando che il reso sia sempre tracciato non fidatevi di quei venditori che dicono guarda spediscimi con una posta non tracciata appena arrivano ti restituisco i soldi della spedizione e il rimborso su vinted assolutamente no perché l'applicazione vuole che la spedizione sia tracciata altrimenti per vinted l'acquirente non avrà mai fatto un reso ora però vediamo come nello specifico effettuare il reso effettuare un reso è un'operazione molto semplice ma bisogna essere consapevoli che deve essere fatto entro e non oltre due giorni da quando il pacco viene consegnato quindi se si tratta di un oggetto di elettronica io consiglio sempre di provarlo prima un capo di abbigliamento consiglio sempre di visionarlo molto bene altrimenti dopo potrebbe essere troppo tardi quindi una volta attestato che nell'ordine ricevuto c'è qualcosa che non va io consiglio sempre di scrivere in chat al venditore e far presente la questione tante volte si risolve il tutto senza neanche bisogno di fare un reso se invece la cosa si traesse per le lunghe oppure il venditore non volesse saperne ragione l'unica cosa da fare è contattare l'assistenza cliccando in alto a destra e richiedere appunto l'intervento per l'articolo acquistato una volta che l'applicazione avrà preso in carico la richiesta chiederà le foto dell'oggetto che ci è arrivato e anche la motivazione della richiesta di reso inoltre una volta accettata come detto in precedenza dovremmo rispedire il pacchetto al venditore sia che si trovi in italia sia che si trovi all'estero una volta che il pacchetto sarà di nuovo nelle mani del venditore in automatico avremo il nostro rimborso io consiglio sempre di mettere il codice di tracciabilità del reso direttamente nella chat con il venditore di modo tale che si possa seguire sia dalla parte dell'acquirente sia dalla parte del venditore se ovviamente il venditore non si facesse più sentire nonostante l'oggetto sia nelle sue mani si può sentire l'assistenza chiedere di intervenire e in quel caso avremo il nostro rimborso automatico ci sono però dei casi eccezionali e sto parlando di acquisti da seller pro se ci dovessimo imbattere in un profilo di un seller pro quest'ultimo verrà considerato dall'applicazione come un venditore professionista quindi dimenticatevi delle regole che vi ho detto fino ad ora perché non ci saranno più due giorni per poter fare il reso ma sarà applicata alla legge standard quindi ci saranno 14 giorni di diritto di recesso un venditore seller pro si riconosce da quelli standard grazie all'etichetta pro accanto al suo nome profilo e alle sue pagine degli articoli in questo caso quindi sarà facile riconoscere un venditore seller pro da un venditore standard quindi privato anche perché le regole per il reso cambieranno notevolmente richiedere un reso a un venditore seller pro dovrebbe essere ancora più semplice scrivendo in chat il venditore dovrebbe subito attivare le modalità di reso perché dovrebbe essere obbligato appunto a accettare il nostro reso se così non fosse sempre medesima cosa bisognerà fare la richiesta all'assistenza come nel caso precedente in questo caso però l'assistenza accetterà ovviamente immediatamente il nostro reso proprio perché stiamo parlando con un venditore seller pro il pacchetto dovrà essere restituito al venditore attenzione però anche in questo caso spese di reso a carico dell'acquirente a meno che non ci si accordi diversamente con il venditore o a meno che il venditore non scriva qualcosa di diverso nella descrizione dell'annuncio ora però vediamo che cosa succede se arriva un articolo contraffatto se secondo l'acquirente l'oggetto ricevuto è falso io consiglio comunque di contattare il venditore e far presente l'accaduto magari si riesce a trovare una soluzione senza fare intervenire l'assistenza se invece interverrà l'assistenza avrà un reparto apposito proprio per gli articoli contraffatti in questo caso però verrà richiesto da parte dell'assistenza all'acquirente tutta una serie di prove a favore della sua tesi ovvero che l'articolo sia realmente contraffatto se l'assistenza riterrà che in effetti l'articolo è contraffatto e non è originale potrebbe essere richiesta la distruzione dell'articolo e in automatico emesso il rimborso senza bisogno di fare alcun reso in ultimo però c'è da capire che cosa non fare quando si vuole richiedere un reso non bisogna aspettare più di due giorni per fare una richiesta di reso a un venditore standard e più di 14 a un venditore seller pro come detto in precedenza non bisogna però neanche manomettere un oggetto che magari ha dei sigilli di garanzia oppure rispedire indietro un oggetto con delle parti mancanti o delle parti danneggiate o danneggiato l'oggetto stesso se era arrivato funzionante e completo perché in questi ultimi casi l'assistenza potrebbe autorizzare il reso ma potrebbe poi negare il rimborso se il venditore dovesse lamentarsi appunto di aver ricevuto un oggetto non conforme a quanto spedito io spero di avervi chiarito come funziona il reso su vinted ma per qualsiasi altro dubbio oppure domanda la sezione commenti è sempre aperta e il video non è finito qui e là ti troverete l'ultimo video caricato e uno consigliato direttamente da youtube mentre qua al centro il tasto per l'iscrizione non dimenticatevi che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network il prossimo appuntamento mercoledì alle 14